Buongiorno, benvenuti alla Rassegna Stampa, alla Zuppa di Porro di oggi 26 settembre. Vi ricordo che questa sera, come sempre, il martedì, insomma, come sempre, c'è Matrix. Riprendo questa diretta perché prima mi sembra che ci fossero dei problemi nell'audio. Allora, che cosa sta succedendo oggi? Sapete che vi dico, il tema fondamentale oggi è un tema che vi avevo già detto prima, cioè quello dei professori universitari che sono stati arrestati. 22 persone sono state interdette, 7 sono state arrestate. Come sempre avviene, in questi casi c'è bisogno sempre di un grande nome che possa dare dignità mediatica ad una inchiesta, ed è l'ex ministro Augusto Fantozzi. In questo caso i professori universitari sono di giurisprudenza, di diritto tributario, quindi per quello diciamo che Fantozzi è dentro. Tutto nasce dalla denuncia di un ragazzo che si chiama Philip, un ragazzo inglese che vuol fare l'inglese in Italia, anche perché ha uno dei due genitori italiano, e non ci sta a essere a mollare un giro di concorso perché il professore gli dice che non è il suo turno, deve andarci un altro e che non si metta a ricorrere perché se no lui farebbe una brutta fine all'interno dell'università. Lui registra tutto, va alla procura di Firenze, la procura di Firenze inizia l'inchiesta, fa molte intercettazioni, intercetta lo stesso Fantozzi che parla di dobbiamo metterci d'accordo, ci deve essere una cupola per mettersi d'accordo, insomma vi potete immaginare la storia che tutti quanti voi probabilmente da anni conoscete. Su questo forse solo Repubblica racconta il fatto che la Gelmini aveva provato a fare una riforma per evitare proprio questi accordi tra baroni universitari, e aveva fatto una grande riforma per il quale c'era una centralizzazione dei concorsi. Non si capisce bene ma sembra che questa riforma da quello che vediamo non funziona. Questo ragazzo tra l'altro è un lettore del fatto, quindi oggi il fatto rivendica che un suo lettore abbia fatto questa denuncia. Devo dire che molto correttamente questo ragazzo intervistato al Corriere della Sera ha detto non mi sembra il caso di parlare ora, facciamo parlare i magistrati con la loro inchiesta. Vedremo quanto non si scambiano soldi, non mi sembra che ci sia tra questi professori un interesse economico. C'è la solita vecchia storia italiana, cioè quella dei professori che si aiutano a Vicenta e si scambiano le figurine e quindi l'università italiana non è fatta, diciamocelo chiaramente, a livello superiore da chi ha meritato di più, ma da quello che è riuscito a stare vicino al professore, gli ha scritto il libro. Insomma, l'università, per chi l'ha fatta, sa benissimo che ha questo criterio incredibile e così poco meritocratico che emerge come sempre quando un'inchiesta tocca l'università. Il ministro dell'istituzione Fedeli dice, ve lo dico bene, sui concorsi truccati voglio andare fino in fondo. No, è vero. Speriamo intanto che non vada fino in fondo come nei suoi corsi di studi perché non ha fatto né liceo né l'università. E a proposito di trucchi, il ministro dell'istituzione mi sembra che abbia fatto un, diciamo, un, per non essere querelati dalla Fedeli, come possiamo dire, un curriculum non truccato, un curriculum equivocabile sulle sue storie universitarie. Ecco, insomma, però il ministro dice che vuole andare fino in fondo. Ma che cacchio di dichiarazione è un ministro che dice voglio andare fino in fondo? Cioè un magistrato che sta indagando, li ha arrestati, il ministro che cosa va fino in fondo? Va a vedere lo schivo che c'è nell'università? Grazie ministro, potremmo dirtelo quando diventavi ministro. Possiamo anche dirti cosa succede nella CGL, possiamo anche dirti che cosa contano i sindacati a te tanto vicini nelle università. Possiamo raccontarti tutte queste cose. Lì devi andare fino in fondo. Vabbè, insomma, a parte lo sfogo sulla Fedeli che dice sui concorsi truccati voglio andare fino in fondo. Complimenti, complimenti alla Fedeli che dice una cosa... Vabbè, insomma, questo l'avete sentito. Chiuderò con la Merkel e con la destra, non ve l'abbandono. La seconda notizia della giornata ce l'ha soltanto Paolo Conti che è un bravissimo, bravissimo giornalista. Io l'ho invitato qualche volta anche a Matrix, è un signore e come tutti i signori non può fare quello che faccio io a Facebook, cioè prendere per i fondelli l'ipocrisia. per i fondelli l'ipocrisia. Il titolo del pezzo del Corriere della Sera è La nave della tolleranza. A Capalbio arriva questo monumento, che è una cagata pazzesca, in cui i bambini scrivono frasi di questo tipo. Tutti noi ci vogliamo bene. Ogni persona è un genio. Love and peace. Allora, già che un bambino scriva love and peace, mi dà il senso di chi ha scritto quella frase dello stracavolo e non chi l'ha pensata. Ecco, love and peace. Io immagino che un bambino scriva love and peace. Vabbè, può essere che un bambino scriva love and peace. Il punto fondamentale è che questa nave della tolleranza, e ne parlerò a Matrix, sapete dove viene messa? A Capalbio. E dov'è Capalbio? È la città. Tutti là che sono andati a vedere questa fantastica nave della tolleranza, eccetera. Capalbio è l'unica città in Toscana, praticamente è l'unico comune, che non ha un cazzo di immigrato, perché il sindaco ha detto non li vogliamo. Ma la nave della tolleranza sì. Gli immigrati no. La nave della tolleranza sì. Quindi fanno questa grande cerimonia della nave della tolleranza. Non c'è sta nero. Ci stanno molti filippini. Ecco sì, ci stanno molti filippini. Ci stanno molte persone dello Sri Lanka, ci sono molti autisti col berrettino, ma non c'è un cavolo di senegalese, nigeriano, dell'ultima cosa, perché la nave della tolleranza è messa nell'unico comune d'Italia che è Nigeria Free. Va bene? Non ci stanno. Va bene? Stanno in tutto il resto della Toscana, ma non a Capalbio. Però la nave della tolleranza sì. Orde di filippini che hanno permesso ai ragazzi, ai bimbi, di scrivere queste bellissime frasi. Peace and love. Mi viene il sangue. Vabbè, fantastica la storia del buco informatico, ve ne abbiamo parlato per tempo, se ne occupa oggi finalmente il Sole 24 Ore, se ne è accorto. Il Sole 24 Ore, che dovrebbe un po' forse scrivere anche per loro, si accorge in prima pagina che c'è un buco informatico e probabilmente, io non voglio dire tanto, ma se si fosse occupato un filo meno di politica estera, di grandi trattati, della destra che non piace, della Merkel che non va bene, del debito pubblico, del debito pubblico, che è un tema obiettivamente invece questo molto importante, ma delle cose che riguardano tutti i cittadini, per esempio il fisco e per esempio il fatto, ve lo ricordo, che se voi entravate per dare i dati sullo spesometro sul sito dell'agenzia delle entrate, potevate digitando un codice fiscale di un chiunque, potevate vedere tutti i documenti, spesometro appunto, che quello aveva depositato, cioè una cosa allucinante, tutti possono sapere le spese degli altri, è una cosa per cui, per cui, bisognerebbe prendere a calci nel sedere, a proposito di meritocrazia, qua non sui concorsi truccati, sullo spesometro vorrei il ministro che dicesse, il ministro dell'economia, non la fedeli, voglio andare fino in fondo, voglio andare fino in fondo e capire chi è che ha sbagliato questo programma informatico, Ruffini deve prendere una testa e farla cadere, perché non può succedere una cosa di questo tipo, dicono l'hanno prologato al 5 ottobre, no cari, quello è già previsto dallo Statuto dei Contribuenti, che se scommettete degli errori e viene shut down un sito si possa avere una prologa, voi dovete trovare i responsabili e cacciarli a calci nel sedere, come si farebbe in qualsiasi azienda normale, perché questo non è un buco informatico, questa è una violazione della nostra proprietà intellettuale, più unica che rara. Merkel sta cercando di vedere tutti quanti per fare un accordo, è molto difficile, anche se i socialisti poi alla fine con loro dovranno trattare, la destra si è già divisa dei fenomeni, perché la Petri, che abbiamo intervistato a Matrix, è la più moderata, ce l'ha un po' con i non moderati che sono rimasti all'interno di AFD, che comunque ha preso un'incredibile per loro affermazione, io vi invito, quando lo faccio io che sono un liberale, quindi ho grande antipatia nei confronti di quelli che negano la Shoah, che vogliono chiudere i confini, sono propenso a una simpatia nei confronti dei liberali, leggete le dichiarazioni dei liberali tedeschi nei confronti dell'Italia, leggete le dichiarazioni dei liberali tedeschi nei confronti dell'Europa e poi capite che i liberali tedeschi in Italia verrebbero considerati salviniani, quasi, i nazisti, i 5 nazisti, perché Repubblica decide che il 12% dei tedeschi di fatto è nazista e prende le 5 figurine dei nazisti che fanno una cosa, 5 rappresentanti di un partito che non è accettabile, cioè il negazionismo è una cosa che mi fa orrore, ma mi fa anche orrore l'idea che non si possa considerare che quando si afferma un partito di destra perché il centro-destra della Sede U lascia lo spazio libero, diventano tutti automaticamente gli elettori e quel partito un partito pericoloso per l'Europa, non è pericoloso per l'Europa, va bene? È pericoloso per l'Europa l'atteggiamento che ha avuto la Merkel sull'immigrazione, non l'esistenza di AFD oggi. Tra l'altro mi piace, cari amici miei giornalisti, che quando parlate del leader dell'AFD, aperta parentesi, lesbica moglie di origine straniera, chiusa parentesi, tutti i giornali dicono che lei è lesbica e c'è una moglie di origine straniera, ma se noi italiani ci permettessimo sul giornale di fare un titolo invece che marocchini stuprano baresi stuprano, jugoslavi stuprano, americani vattela pesca stuprano, ci dicono ma perché avete scritto là marocchini, perché avete fatto questa cosa? Invece aprire una parentesi e dire lesbica con una moglie straniera, come per dire ma questa guarda è destra, ma sei proprio incoerente, questo si può fare perché riguarda il partito dei nazisti, si può fare, non c'è sessismo, niente, si può dire che è lesbica e che è di origine senere, è chiaro che è un dettaglio importante, è chiaro, così come se uno stupro fatto a Rimini è fatto da degli stranieri extracomunitari, ma perché lì è possibile sulla destra dire tutti i suoi particolari di famiglia e sullo stupro degli extracomunitari non è possibile, è la nave della tolleranza e con questo vi saluto, ciao stasera alle 23.30 Matrix.